Lunedì 28 gennaio, Santo Maso d'Aquino, è il 28esimo giorno, dall'inizio dell'anno ne mancano 337 al termine. Il sole sorge alle 7.36 e tramonta alle 17.11. La luna si leva alle 1.03 e tramonta alle 11.49. Con l'impegno di pagare 10.000 fiorini l'anno per 50 anni ai visconti signori di Milano, Padova ritorna in possesso dei carraresi con il beneplacito dei veneziani. Infatti, il successivo 24 novembre, Francesco Novello da Carrara viene addirittura iscritto nella nobiltà veneziana. Le previsioni per domani. Precipitazioni assenti, cielo sereno o poco nuvoloso. Sulla pianura alcune nebbie fino all'alba, in dissolvimento nel corso del mattino e in nuova formazione di sera. Temperature in calo di notte e in aumento di giorno.